Qua! Ben! 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 Allora... Non hai attaccato le evidenti? Beh, ci sarò una sette e mezza. Beh, ci sarò una sette e mezza. Il film è finito. È un film è finito. È un film. Ho visto il film. Lo scoprizzate con la ragazza, ci sono vizi insieme. Beh, cosa hai visto, no? Beh, cosa hai visto, no? Eh, 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 ah, non si mette per il dalcio. No, è uno. di ma che bello aspetta aspetta non finire bastardo muori minchia che sparata ok un altro giorgino dopo il video se vuoi c'è un vampa guarda che bello che sparo ciao ragazzo è arrivato il torinese a posto che abbiamo detto che abbiamo una barzelletta ragazzo il torinese il milanese o l'oppo 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 ci sono citato e c'è un altro anche di diritti non so come se la parte del o 100 tutto con la testa 5 anni ammazzato lo sta cambiando e poi va che sono dietro oh ho detto sto sparata ucciso uno l'ho ucciso raga manca queste due ma c'è qualcuno da te già c'è video una terra o non trova me raga bella raga aiuto raga mi volete aiutare sono contro questo qua qua con qua è bianco raga è bianco raga è bianco raga è bianco 18 30 bianchissimo è andato bello ci girano perchè io qua me ne sono fatti due volete colpi cieco raga colpi lancio se tieni dai la cosa grazie metri di squadra uno ce lo io e te anch'io ne ho uno direttamente fatto per lanciarazzi perchè penso anch'io lancio cosa tu ne hai scendini no no e mi dai qualche colpi qualche colpo lancia te già lancia lancia la davanti a noi raga la terra sparò nel culo l'ho sparata nel culo raga che caro per cazzo l'amico mio di roma a scemi ma dov'è sto coglione e mo te bullizzo no aspetta aspetta mi posso giuare vai nella trappola fide per te video anche i got c'ho madikit o te fatti sono però mi sembra che anche nel di là c'erano altri mediti o lanciarazzi leggendari vanno con le granate raga ci so con lì che ci cerchiamo vai video che io sfondo ma che sto sfondando e quali è deciso uccisi tutti e due quanta prepotenza raga sugli tutti i materiali avete volete continui di colpini video 2 riuscite per te avete colpito il colpo lanciarazzi che stanno cucciando raga sopra la montagna contatto bianco io sei fefe troppo scendini vieni 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 6 hai lancio 1 gente lì gente lì raga troppo troppo cos'è che vuoi mi dai colpi lancio il fatto che faccio figlio quando vengono senti raga diventa tra bianco ucciso che fece ci sono colpi la fila e bianco però la struttura da ciso bella ragazzi non sono andato più l'omani sicuramente no tipo 9 raga pausa sigaretta ok bravo andiamo in lobby buona raga buona 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 ho capito io gioco bene sempre quando buona 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 bu Grazie a tutti.